Non c'è nessuna contrarietà alla fusione ma semplicemente arrivarci con modi e tempi adeguati. Per questo abbiamo chiesto alla regione di valutare un tempo congruo per realizzare quello che noi abbiamo messo nero su bianco. D'accordo con l'istituzione della nuova Pescara ma senza fretta. I comuni di Montesilvano e Spoltore hanno approvato un'identica proposta in cui chiedono di prorogare l'attuazione della legge regionale 26 del 2018. La legge pone come limite per la fusione dei tre comuni il 2023 con la possibilità per i consigli comunali una sola volta di posticipare la data di un anno. Nelle scorse settimane però alcuni consiglieri regionali di centrodestra avevano sostenuto l'ipotesi di uno slittamento al 2027. In ballo infatti vi è anche il ruolo di presidente della provincia di Pescara attualmente ricoperto dallo scorso dicembre dal primo cittadino di Montesilvano. Nella stessa situazione Spoltore che tra i comuni che tra un mese andranno al voto dovremmo sapere se presentare un programma per i prossimi sei mesi o per i prossimi cinque anni dice il sindaco di Lorito al termine del suo secondo mandato ma manca chiarezza. Io credo che almeno si debba avere un ulteriore anno se non ulteriori due anni. E' chiaro che ad oggi c'è sicuramente un vuoto normativo perché il Comune di Spoltore come sapete tra un mese tornerà al voto e stando alla legge attuale il Comune di Spoltore voterà per soli sei mesi. Questo è lo stato in cui i cittadini andranno a votare e le forze politiche si apprestano a fare una campagna elettorale. Credo che innanzitutto questo vuoto vada colmato e vada detto a Spoltore se si vuota per sei mesi, un anno e mezzo o addirittura cinque anni. E questo è in capo alla Regione la facoltà di fare questo. La nascita della nuova Pescara però è anche una questione di soldi. Dal 2018 la Regione avrebbe dovuto mettere 300.000 euro l'anno a disposizione delle attività propedeutiche alla fusione. Ma finora ai Comuni non è giunto neppure un centesimo. A sbloccare la situazione però ci ha pensato il Parlamento. La Commissione Finanze del Senato ha approvato all'unanimità l'emendamento a firma di Luciano D'Alfonso che stanzia 105 milioni di euro spalmati in 5 milioni per il 2023 e 10 l'anno per il successivo decennio.